Le comunità devono abituarsi a fidarsi delle forze di polizia. Di solito nell'immaginario collettivo si dice che la polizia e i carabinieri non fanno abbastanza cose, ma noi possiamo fare bene abbastanza se abbiamo il sostegno. Il dottor De Salvo l'ha veramente con grande sincerità rappresentato. Segnalazioni, segnalate, presenze sospette, questo non significa che noi arrestiamo quelle persone, però questa operazione nasce anche e soprattutto da alcune segnalazioni, che ci hanno permesso con la professionalità, con l'intenzione, con l'intuito, perché poi in questo voglio dire che noi siamo particolarmente attenti ai reati predatori che incidono fortemente sulla percezione di sicurezza delle comunità, delle cose, e su quello siamo particolarmente accosti, non sottraendo spazio e risorse all'attività investigativa sui fenomeni carameristici che sono altrettanto importanti, però bisogna dare risposte anche sui reati predatori.